C'è un pallino nella vita, c'è un sogno, che è quello dell'essere diplomato. Nella vita bisogna avere degli obiettivi. Io da piccolo purtroppo ho trascurato la parte di studio. Sento a 42 anni la voglia e ho la voglia di approfondire quello che è al di fuori della mia professione, la cultura, ed eccomi qua pronto a ritornare sui banchi di scuola e grazie ad Elis spero che sia un percorso fattibile. Ritrovarmi vicino ai ragazzi che magari di pasticceria ne capiscono poco, ma non è un problema, perché dobbiamo essere noi a fargli capire quanto è importante in questo contesto la pasticceria. È un mestiere che ti sacrifica, ma ti dà mille e una soddisfazione. Va studiato, ma nello stesso tempo va approfondito manualmente. Questa è una giornata che mi porterò nel cuore e non smetterò mai di ringraziarvi.